La storia della Deutschland Negli anni 80 la politica di riconciliazione tra Bismarck e la Chiesa e quindi anche il centro tedesco subì una nuova accelerazione grazie anche all'ascesa, all'avvenuta del nuovo pontefice Leone XIII che nel 1878 aveva preso il posto di Pio IX. La rottura con la Francia che andava affermandosi come il primo grande stato europeo a maggioranza cattolica e completamente laico e liberale avvicinò quindi per l'appunto quel che rimaneva dello stato pontificio insomma alla Germania. Ora la Germania nemica del liberalismo e ovviamente della socialdemocrazia come il papato. Nel 1880 lo stato federato prussiano, quello che meno di tutti aveva rinunciato al Kulturkampf per ovvie ragioni di maggioranza protestante e di reazionarismo, di grande conservatorismo prussiano, reintrodusse la possibilità di pagamenti alla Chiesa cattolica e revocò il giuramento che i vescovi dovevano fare, dovevano prestare all'impero ogni qual volta volevano insomma fare le loro attività di vescovi. Insomma, tranne le leggi anti-gesuite che rimasero ancora vigenti, anche il conflitto nel reazionare a Prussia con la Chiesa si attenuò tantissimo. Tuttora la Germania ha un modo strano di rapportarsi alla religione, infatti se te sei risulti battezzato, non mi ricordo bene com'è la procedura legale, però praticamente hai una tassa, una detrazione dal tuo stipendio che di fatto va a finanziare la Chiesa, che sia che tu sia cattolico che protestante vanno due enti diversi, però vai a finanziare quello che è la Chiesa in Germania. Se invece te non sei battezzato, ti sei ateo eccetera eccetera, non paghi tramite tasse la Chiesa, che è una cosa molto laica che qui in Italia ovviamente non esiste. Comunque, uscendo un attimo dalla politica degli interni, la svolta in materia di politica estera in Germania si ebbe però solo nel 1884, quando quasi repentinamente il pragmatico cancelliere di ferro cambiò completamente idea sulle politiche coloniali ed imperialiste. Queste decisioni, questa svolta, è ancora oscura ed è oggetto di studio, in quanto avvenne in relativamente, anzi senza relativamente, in pochissimo tempo. Non sappiamo infatti se Bismarck in fondo in fondo veramente credesse che l'affacciarsi per esempio in Africa o in Asia fosse indispensabile per l'impero, che era sempre stato, la Germania, uno stato, un impero terrestre. Possiamo fare, non lo so, tre, quattro ipotesi. Per esempio, è possibile che Bismarck abbia deciso di fare espandere l'impero solo per evitare che altri, e quindi mi riferisco a Regno Unito e Francia, potessero farlo altrimenti. Se a me non interessa la Tunisia, ma so che al mio inversario interessa, forse è bene che mi do da fare, la prendo prima io. Questo potrebbe essere una parte di spiegazione un po' semplicistica. Oppure per citare Jean Romain, forse questa era solamente una sorta di sindrome di prestigio, dove effettivamente non ci si chiedeva, però sarebbe stato non proprio una cosa da Bismarck, però magari pressato dagli altri organi di Stato, magari fu costretto a farlo, ossia magari non si riconosceva veramente un valore, un qualcosa, un valore aggiunto a un impero coloniale oltreoceano. Però il fatto che andava, mi verrebbe da dire quasi di moda, come se fosse lo status, lo status delle grandi potenze nella seconda metà dell'Ottocento, beh la Germania anche per una questione d'immagine non poteva che emulare i propri vicini, perché poi le questioni d'immagine diventano anche questioni di potere e una grande flotta, vedremo come poi negli anni 90 la Germania investirà tantissimo sulla flotta senza comunque mai arrivare ai livelli inglesi e poi anche americani, e anche un'eccessiva enfasi sull'impero, potevano valere veramente un aumento di status internazionale ed essere riconosciuti come grandi potenze all'estero, perché uno dei psicodrammi tedeschi oltre alla sindrome di accercamento è proprio quello di dimostrare di essere effettivamente una superpotenza, status che gli era sempre stato negato fino a questo punto. Se vogliamo un qualcosa di simile che attanaia la Cina da molti decenni, cioè il fatto di dimostrare all'estero, di essere una superpotenza egemone e di avere anche un modello potenzialmente politico sociale da esportare. Anche la Germania non aveva effettivamente un modello politico sociale alternativo serio da esportare, in quanto le democrazie liberali francese ma soprattutto inglese e americane già allora si vedeva che erano destinate a non fallire come invece fallirà la politica tedesca dopo la caduta di Bismarck, ma anche da un punto di vista economico coloniale la Germania cercava la sua dimensione nel mondo, in un questo mondo fatto di grandi potenze che si erano industrializzate, una prima di lei e una contemporaneamente a lei. Parlo ovviamente degli Stati Uniti d'America. Poi una terza opzione, quella più pragmatica, è probabilmente l'ingrandimento del mercato, perché il mercato interno non poteva crescere in eterno, ma coerentemente con le ideologie protezionistiche dei conservatori che si opponevano all'apertura commerciale con gli altri grandi paesi europei, ingrandire un impero consentiva di rimanere protezionisti però anche di ingrandire il mercato. E quindi due piccioni con una fava senza di nuovo sbilanciarsi verso il liberalismo. Fatto sta che tra l'84 e l'85 la Germania riportò importanti successi coloniali. Il Togo, il Camerun, anche la nuova guinea tedesca ed un vasto protettorato in Africa orientale. Spesso quando viene insegnata al liceo l'espansione coloniale tedesca viene descritta come qualcosa di poco conto, invece non era per niente poco conto, era molto più vasto di, per esempio, dei protettorati italiani, era molto più vasto dell'impero italiano del 36, quindi anche di 50 anni più avanti del periodo che stiamo raccontando. Certo, era poca cosa rispetto all'impero inglese, inglese, in parte anche a quello francese, ma sicuramente non era... i tedeschi erano riusciti veramente ad espandersi molto in Africa e in parte anche in Asia. Inoltre il nuovo impero e i successi coloniali imperialisti ebbero anche l'effetto demagogico di nutrire un'opinione pubblica ormai matura, un po' come fece Napoleone III vent'anni prima, cercando anche di distogliere i nazionalisti tedeschi, dei problemi interni, per rifocellarli demagogicamente di successi esteri, esterni, anche perché il nazionalismo si stava trasformando in tutto il mondo in qualcosa di non più strettamente legato all'idea di comunità di lingua, ma era diventato una sorta, un po' veramente come aveva in parte già pronosticato Fichte, una sorta di chiamata dei, in questo caso tedeschi, a spingersi perché essendo moralmente e culturalmente superiori potevano e anzi forse dovevano civilizzare o in alcuni casi addirittura sostituire le popolazioni inferiori. Per questo anche perché verso la fine del secolo del millennio, scuola, istruzione nella Germania, erano arrivati a dei apici mondiali. A fine secolo il tasso di analfabetismo in Germania era inferiore al 10%. Una delle cose che più colpiva gli stranieri che negli ultimi 30 anni del XIX secolo visitavano gli stati tedeschi era appunto l'ottima qualità degli istituti di istruzione elementare e se ne può benissimo capire il perché. Se infatti viene presa come criterio di valutazione di un sistema scolastico elementare la capacità di ridurre l'analfabetismo, quello della Germania era senza dubbio il migliore d'Europa. Perfino un paese così progressista come l'Inghilterra non ebbe nulla che assomigliasse ad un completo sistema di insegnamento elementare rispetto alla Germania fino alla legge Foster sull'istruzione del 1871. I bambini inglesi non furono obbligati a frequentare la scuola fino al 1880. E poi fin dagli inizi del XIX secolo gli stati tedeschi avevano più università e di qualità migliore nella maggior parte dei loro vicini perché uno degli aspetti positivi dell'individualismo tedesco era l'orgoglio che gli stati ancora separati non uniti in impero provavano per le proprie istituzioni educative superiori e lo zelo con quale cercavano di avere i più grandi studiosi. Per esempio, chiave fu l'opera svolta dal ministro prussiano dell'istruzione Wilhelm von Humboldt che, famoso nel 1809, fondò l'Università di Berlino. La crescita qualitativa di quest'università fu particolarmente rilevante nel campo delle scienze naturali e sperimentali, dove per la prima volta nel mondo un'università investiva tantissime risorse nella creazione di laboratori per incentivare l'aspetto sperimentale di queste materie che noi oggi diamo per scontato, ma fino a quel periodo in tutto il mondo erano molto più teorico-didascaliche che non sperimentali. Quindi paradossalmente i veri effetti dell'empirismo scientifico, nato probabilmente in Inghilterra in quegli anni, li abbiamo più preponderanti nelle università tedesche. Ed è grazie anche a questo che noi a fine secolo abbiamo un'industria chimico-farmaceutica tedesca la migliore in tutto il mondo. Come al solito sembra tutto bellissimo finché non ci si rende conto che, per esempio, le condizioni delle donne sono ancora assolutamente queste sì indietro rispetto agli altri paesi europei, un po' come era già nel 48-49, ma ne avevamo parlato un po' di episodi fa. E poi anche i diritti delle minoranze, beh, no, no, siamo molto indietro. Per esempio, nel 1886 Bismarck fece approvare una legge che prevedeva l'acquisto di proprietà terriera polacca in una prima vera e propria politica antisemita tedesca. Questo per germanizzare e sostituire etnicamente i tedeschi con i polacchi in Prussia orientale. Il governo spese un miliardo di marchi oro nell'arco di una trentina danni per far insediare agricoltori tedeschi in terre acquisite, ma spesso anche confiscate, ai polacchi. Qualcosa di simile successe anche ai danni dei danesi e dei francesi, delle minoranze danese e francese, nello Schleswig-Holstein e nell'Alsazia-Lorena. A proposito di Alsazia-Lorena, da quando l'accordo dei tre imperatori era saltato e la Germania continuava a mantenere alti dazi sui cereali ai danni della Russia, si stava rafforzando, sempre in Russia, la corrente panslavista che rischiava di mettere in discussione i confini orientali della Germania, quindi territori, chiamiamo polacchi, storicamente e culturalmente polacchi, chiamati ora Prussia orientale. Allo stesso tempo però in Francia il revanchista Boulanger divenne ministro della guerra e quindi la sindrome da cerchiamento tedesca subì un nuovo incremento, in quanto nel giro di un anno, sia da est sia da ovest, i confini tedeschi sembravano essere veramente minacciati. La paura di un'intesa anche franco-russa spinse il cancelliere a pompare il bilancio militare settennale, che però poi non venne approvato, e anche in questo caso le camere furono sciolte dall'imperatore e la nuova maggioranza diede il via libera a questo incremento delle spese militari mostrando ancora una volta la debolezza ed i limiti del Reichstag. In ogni caso la politica coloniale tedesca subì un brusco rallentamento, specie nelle zone di interesse inglese perché il Regno Unito era infatti l'unica potenza che poteva coccolarsi Bismarck per difendersi dai pericolosi vicini ad est e ad ovest, che potevano coalizzarsi in un qualsiasi momento per schiacciare, dividere a metà il povero impero tedesco. La Germania doveva fare in modo che gli inglesi non si avvicinassero mai ai francesi, in quanto effettivamente comunque massimi rivali nell'avventura coloniale e imperialista in Africa e anche in Asia. E anche perché se gli inglesi fossero alleati con i francesi e i russi, cosa che accadrà nel 1914, ecco per la Germania sarebbe stato un enorme problema. Però l'avvicinamento, seppur temporaneo, del Regno Unito alla triplice alleanza e quindi il primo patto del Mediterraneo, che garantiva lo status quo nella regione mediterranea, fu l'ultimo grande successo del cancelliere di ferro, in quanto si riuscì in qualche modo ad avvicinare il proprio paese all'Inghilterra, al Regno Unito in funzione antifrancese. Quindi, ultimo grande successo di Bismarck, insieme a quello sulla vera ancora una volta scongiurato l'ipotesi di una guerra preventiva alla Russia, dal momento che il partito della guerra e anche gli altri ufficiali dell'esercito, sia tedeschi che austriaci, spingevano in quella direzione. Ricordiamo che dopo il fallimento del patto dei tre imperatori, Austria e Germania erano rimasti uniti alleati e poi nell'82 avevano firmato la triplice alleanza con l'Italia, patto difensivo. Per quanto riguarda invece gli affari interni, Bismarck passò agli ultimi anni della sua lunga carriera politica a combattere i socialisti, con ogni mezzo possibile, ma nonostante ciò i loro seggi in Parlamento, i socialisti, non facevano che aumentare elezione dopo lezione, nel 1890 avevano 35 seggi su 397, il 90 è l'ultimo anno di cancelliera Bismarckiana, quindi ecco da quei 12 erano poi diventati 9 e poi sarebbero saliti in una decina di anni fino a diventare 35. E quindi per dimostrare che lo Stato poteva dare, poteva aiutare i proletari molto di più di quanto l'Espede potesse fare, insieme alle misure repressive di polizia, Bismarck si impegnò anche propositivamente facendo approvare dal Reichstag alcune leggi molto importanti, come 1883 la legge sull'assicurazione contro le malattie obbligatorie, nel 1884 una legge contro gli infortuni e nel 1889, pochi mesi prima della fine della sua cancelleria, una legge sulla invalidità e sulla vecchiaia. L'Espede quindi si ritrovò spaccato sul da farsi, rimanere antiborghesi, qualsiasi cosa accada, oppure effettivamente votare a favore di leggi tutto sommato buone, anche se proposte dal nemico Bismarck, vinse la seconda linea, quella proposta da Bebel, probabilmente il più importante deputato dell'Espede, e quindi l'Espede votò a favore delle tre leggi, tutte a Reichstag. Gli ultimi sei anni della cancelleria di Bismarck furono caratterizzati da maggioranze ballerine, radicalizzazioni delle posizioni austere del cancelliere e, in generale, da un clima che rendeva veramente impossibile il dialogo anche tra funzionari del governo stesso. Con Bismarck che se ne andava, anche l'impero per come lo avevamo conosciuto, se ne andava. Le dimissioni di Bismarck lasceranno un vuoto insanabile. Nel prossimo episodio vedremo effettivamente, se questo era il declino di Bismarck, nel prossimo inizieremo con la caduta vera e propria di Bismarck e vedremo il vuoto che nel 90, a partire dal 90, enorme che lascerà Bismarck, mai verrà colmato, perché nessuno sarà in grado e nessuno era preparato ad un vero governo senza Bismarck e nessuno seppe mai prendere il suo posto. E quindi i cancellieri si alterneranno ogni 3-4 anni al massimo e mai riuscendo, mai più, ad emulare quei 19 anni ininterrotti dal 71 fino al 90, se poi consideriamo anche quelli in Prussia e arriviamo quasi a 30. E quindi, danken schon an all e ci sentiamo al prossimo episodio. Minchia, sono andato lungo a giro. Tschusssss! La storia della Deutschland Il 9 marzo del 1888, alla quasi vigilia del suo 91esimo compleanno, morì il primo Kaiser della storia della Germania, Guglielmo I. Federico III, primogenito di Guglielmo, non era però messo tanto meglio del padre, da un punto di vista di salute, quando indossò la corona per la prima volta quello stesso anno. Il nuovo malcapitato imperatore, con un tumore molto grave alla laringe, era infatti troppo debole per effettuare una qualche inversione di rotta liberale della teoricamente sua Germania. Perché dico teoricamente sua Germania? Beh, il fatto era che la Germania, in realtà, se doveva essere di qualcuno, non era di Federico III, era di Bismarck, il quale, Bismarck, si impuntò praticamente su tutte le nomine e tutte le decisioni di Federico III, rendendo quegli ultimi giorni di vita dell'imperatore un inferno. Sembrava quasi ci avesse preso proprio gusto a boicottare qualsiasi decisione di Federico. L'antagonismo del cancelliere era motivato probabilmente dalle tendenze liberali dell'imperatore e dall'odio che provava verso la moglie, la moglie dell'imperatore Vittoria, figlia della regina Vittoria d'Inghilterra, che rendeva la coppia, agli occhi di Bismarck, intrinsecamente filo inglese. Quando il 15 giugno, sempre dell'88, Guglielmo II prese il posto del padre, che appunto morì di tumore dopo meno di cento giorni di impero, i rapporti col cancelliere non furono per nulla più facili. Il giovane sovrano, aveva 24-25 anni, era l'opposto del padre, e se vogliamo anche del nonno, reazionario, testardo, orgoglioso e amante del lusso, incauto, superbo e anche guerra fondaio. Ricordiamo che Guglielmo II era nato con una malformazione al braccio, la mano sinistra, che praticamente lo rendevano disabile. E probabilmente questo, ecco, se vogliamo azzardare un'interpretazione freudiana, diciamo una certa sindrome della compensazione, aveva sicuramente determinato questo suo orribile caratteraccio. Dopo il fallimento della proroga delle leggi antisocialiste, grazie all'intervento chiave dei liberali al Reichstag, nel 1890 le nuove elezioni indebolirono il cartello governativo pro Bismarck, facendo presagire ancora una volta una crisi, l'ennesima crisi di governabilità che aveva attenaiato la Germania negli ultimi dieci anni della sua esistenza. Il cancelliere, ormai anziano e testardo, quasi quanto il nuovo imperatore, testardo sulle sue posizioni sempre più reazionarie, abbandonò gli sforzi per creare un nuovo cartello politico, forzando un gioco forza, scusate la ripetizione, che stava andando a sfidare il Reichstag stesso proprio come istituzione politica legittima. È probabile che Bismarck si sarebbe potuto spingere fino alla restaurazione dell'assolutismo, ma non lo sappiamo con certezza, perché appunto nel giro di pochi mesi poi verrà esautorato. Comunque, Guglielmo II, seppur potenzialmente beneficiario di un ipotetico rovesciamento del Reichstag, non seguì la battaglia del suo primo ministro. Questa infatti era proprio la battaglia, l'ultima battaglia personale, 100% personale, di Bismarck, il quale non si degnò di riferire alcunché al nuovo imperatore, ritenuto probabilmente forse troppo giovane, incapace, inetto. Bismarck, che era il più grande politico del suo tempo, sfidava dunque, seppur indirettamente e non ufficialmente, l'autorità del nuovo imperatore. Nel mentre che Bismarck stava autonomamente preparando una dittatura militare, antiparlamentare, ed era anche sull'orlo di ratificare un trattato, un nuovo trattato di controassicurazione con la Russia per recucire i rapporti che si erano un po' sfibrati nell'ultimo decennio, il 17 marzo del 1890, l'imperatore Guglielmo II gli pregò, categoricamente, quindi diciamo con un certo fastidio, di rassegnare le dimissioni dalla cancelleria del Reich e anche dalla presidenza del Consiglio dei Ministri prussiana. Il 20 marzo, quindi, Bismarck fu esautorato definitivamente dai suoi incarichi. Il vecchio Juncker, benché godesse dell'appoggio dell'esercito di una larga fascia della nobiltà, soprattutto prussiana, comunque mai avrebbe tentato un colpo di Stato, perché tutto si poteva dire di Bismarck, tranne di uno che sfidasse proprio apertamente la corona come istituzione, semmai sfidava l'imperatore in quanto uomo. Probabilmente il vecchio Bismarck aveva talmente tanto governato sotto Guglielmo I che ormai, come avevamo detto anche negli scorsi episodi, la mancata parlamentarizzazione della Germania aveva cristallizzato tutto l'impero nelle due figure di Bismarck e Guglielmo I e quindi quando lo status quo andò a infrangersi, perché appunto a quasi a 91 anni uno dei due morì, semplicemente né Bismarck e né l'intera Germania era pronta effettivamente ad un cambio di potere. Alla fine la democrazia e soprattutto, insomma, il parlamentarismo servono proprio a questo, perché quando tu hai un sovrano illuminato o un governatore illuminato, può essere illuminato ma se non prepara la strada per chi verrà dopo di lui, beh succede quello che poi appunto successe alla Germania a partire dal 90 fino allo scoppio della prima guerra mondiale e probabilmente anche oltre. La personalità totalizzante del cancelliere di ferro aveva lasciato l'impero impreparato e senza strategie per poterlo sostituire. E comunque l'inettitudine di Guglielmo II poi non aiutava. Come ci ricorda il noto, con amarezza, il noto critico teatrale Alfred Kerr rispetto nei riguardi di Guglielmo II, in testuali parole, quel che ben si riconosceva in lui era la mancanza di intelligenza, altrimenti possedeva tutti i talenti necessari per occuparsi degli affari, solo degli affari, economici, sicuramente non politici, o diplomatici, come vedremo ben presto. Egli infatti si circondò di alti ufficiali e di alto grado militare dell'esercito, garantendo loro poi quindi anche incarichi politici e diplomatici, che ovviamente non seppero svolgere con professionalità, non essendo questo il loro primario mestiere. Il primo cancelliere che sostituiva, andava a sostituire Bismarck, era un po' l'emblema di questo fatto qua. Leo von Caprivi, soldato di professione, appunto, distintosi nelle guerre del 66 e del 70, senza però alcuna conoscenza specifica di politica interna o estera, appunto, andò a sostituire Bismarck. La prima cosa, diciamo, che il nuovo governo fece fu quella di bloccare tutto ciò che la cancelleria Bismarck aveva iniziato negli scorsi due anni, quindi negli ultimi due anni di tutta la carriera di Bismarck, tra cui il trattato con la Russia, che era praticamente già fatto finito, doveva essere solo ratificato. Questo passo indietro repentino tedesco non farà che offendere ancora di più Mosca, tra l'altro, e infatti nel 93 Francia e Russia firmarono un patto militare. Diciamo, il primo grande riavvicinamento tra Francia e Russia, che poi andrà anche a inglobare poco più avanti il Regno Unito, in quello che poi prenderà il nome di triplice intesa. Caprivi era consapevole che chiunque fosse stato il primo, il primissimo successore di Bismarck avrebbe irrimediabilmente fallito, e ciò nonostante e gli accettò l'incarico. Sicuramente non proprio con piacere. Durante i suoi quattro anni di cancelleria, il suo mediocre operato fu messo a ferro e fuoco e criticato anche troppo aspramente, soprattutto dall'influente stampa Bismarckiana, che lo accusò, per esempio, di consentire in modo molle, con troppi favori, che gli inglesi facessero i propri interessi indisturbati nel Mediterraneo senza pretendere nulla in cambio. Anche effettivamente un grave errore di ragioneria interna contribuì alla, diciamo, alla sminuizione mediatica del governo Caprivi. Nel 1892, infatti, si erano ritrovati, insomma, i ministri del governo Caprivi con una legge di bilancio da proporre al Reichstag indecente, dato che avevano sbagliato di sbagliati zeri le entrati annuali e quindi dovettero, insomma, chiedere di far approvare un bilancio malatissimo pieno di buchi, a cui si sommò anche un aumento delle spese militari, cosa che venne nel 93 respinta dal Reichstag e dopo le nuove elezioni alla fine approvato. Ma questo fu comunque una vittoria di Pirro per questo governo, in quanto la sua popolarità andava scendendo da ogni punto di vista a ogni classe sociale possibile tedesca. Caprivi poi si dovette anche scontrare con la nobiltà terriera economicamente in declino, ma ancora sproporzionalmente influente, soprattutto in Prussia, sulla questione dei dazzi, che il governo stava abbassando e che quindi i produttori dell'Elba non erano proprio particolarmente felici. I Junkers erano poi anche ben rappresentati dal primo ministro prussiano Eulenburg, che nel 93 entrò in pieno conflitto con Caprivi, in quanto, appunto, ricordiamo, se Bismarck è stato per, se non ricordo male, tutta la sua carriera politica sia primo ministro prussiano sia cancelleria del Reich, dal 92 invece la cancelleria tedesca e la presidenza prussiana invece erano state divisi. E quando iniziò questo conflitto, diciamo, tra il rappresentante degli Junkers prussiani della presidenza e la cancelleria invece più, diciamo, moderatamente filoliberale, Goyalmo II alla fine li licenziò. Entrambi. L'uomo che sostituì Caprivi, il Klaudwig von Hohenlohe, è un po' un gioco di parole, uno scioglilingue, Hohenlohe, era stato primo ministro bavaresse e governatore dell'Alsazia Lorena, un cattolico, insomma, e cercò di attuare l'ennesima svolta a destra del paese, veramente l'ennesima, combattendo per l'ennesima volta il socialismo, cercando un po' di camminare sulle orme di Bismarck, anche per evitare, appunto, di essere bombardato dalla stampa reazionaria, ormai reazionaria, conservatrice, nobiliare, Bismarckiana, che aveva contribuito alla caduta di Caprivi. Comunque ricordiamo nel 93 l'Espede aveva ormai 44 seggi in Parlamento, più del 10% dei 397, appunto, seggi. E per questo motivo, anche grazie ai liberali, o per colpa dei liberali dal punto di vista di Hohenlohe, scusate, egli non riuscì a far approvare alcuna legge federale. E la parola sull'argomento, quindi sulle eventuali censure, leggi antisocialiste, passò ai singoli stati dell'impero. Ahimè, da questo momento in avanti, il nuovo cancelliere dovette confrontarsi più che altro, cercare di tappare diplomaticamente i buchi delle svariate gaff che Guglielmo II faceva nelle relazioni internazionali, in quanto aveva questo brutto vizio di parlare lui, fare lui il diplomatico, e non era assolutamente capace. E quando non lo faceva lui, lasciava tutto quanto in mano ai militari. Nel prossimo episodio vedremo, per esempio, la grande problematica e la chiusura dei rapporti con il Regno Unito, dopo che Bismarck alla fine della sua carriera aveva cercato in qualche modo di aprirsi vagamente all'Inghilterra, quando nel 1996 scoppiò la crisi del Transvaal, che anticipò la seconda guerra anglo-boera. E vedremo come la Germania andrà sempre più in una fase di decadenza, politico-istituzionale, economica no, ma politico-istituzionale sì, fino alla fine del secolo e oltre, rimanendo sempre più isolata, non riuscendo a concludere nessun vero accordo forte internazionale con le grandi potenze europee, fino a rimanere appunto isolata nel 1914, dove l'unico alleato sicuro era e rimarrà l'Austria. Proprio quell'Austria che nel 1966 aveva subito una quasi umiliazione dall'esercito russiano. E quindi, fino in Duncan Hall e ci sentiamo al prossimo episodio. La storia della Deutschland Dopo vari contrasti con il Regno Unito su questioni imperialistiche già durante la cancelleria di Caprivi, nel 1896 Gujalmo II ebbe la non brillante idea di inviare un telegramma al presidente del Transval Boero, che ora, come ora, sta, diciamo, a nord del Sudafrica, fa parte del Sudafrica, della zona più a nord, dove vi era informalmente scritto che egli era disposto a dargli protezione. Pochi giorni prima, infatti, era fallito un golpe organizzato, seppur autonomamente, da un inglese, il dottor Jameson. Tecnicamente, ufficialmente, il governo inglese non aveva dato nessun via libera a quest'azione, anche se non è che, appunto, gli inglesi non sapessero che il Transval era una zona di possibile interesse nazionale. Infatti, alla scoperta di grandi giacimenti d'oro nella zona, gli inglesi sì che sarebbero stati intenzionati a mettere le mani nuovamente in quella regione, in quanto la zona più a sud del Sudafrica era già una colonia inglese. Anche l'interesse tedesco era ben motivato, però. Oltre il 20% del capitale straniero investito in quelle zone del Sudafrica era infatti tedesco. In più, molti tedeschi, che erano emigrati là, detenevano il controllo di larghe fette del settore finanziario e del commercio di molti beni importanti. Ferro, acciaio, macchinari, whisky pure. Bisogna però specificare che, nonostante fosse uno stato sovrano il Transval, esso non poteva concludere accordi internazionali senza l'autorizzazione inglese, in quanto vi erano stati accordi negli anni Ottanta. Inoltre, se non fosse stato per Hoenhohe, Hoenhohe non riuscirò mai a pronunciarlo, Guglielmo II, altro che Telegramma, avrebbe proprio dichiarato l'estensione di un protettorato tedesco su tutta la regione. Quindi, già tanto che si limitò solamente a inviare questa sorta di telegramma di, non so come chiamarlo, di auguri di protezione verso il presidente Kruger del Transval. Kruger che, tra l'altro, darà il nome anche alla più importante riserva naturale, parco naturale del Sudafrica. Tuttavia, ecco, bastò solo l'innocuo telegramma per aizzare l'opinione pubblica inglese e far percepire una sorta di alleanza complotto fra la Germania e il presidente Kruger. Quando nel 1899, in un'atmosfera di imminente attacco diretto inglese, diretto a questo giro, quindi proprio del governo inglese, i Boeri attaccarono le colonie inglesi, dando via lo scoppio della Seconda Guerra anglo-Boera, i tedeschi però si guardarono comunque bene dall'intervenire militarmente e appoggiare una o l'altra parte. E se i rapporti tra la Germania e l'estero si stavano deteriorando sempre di più, anche la società tedesca era più divisa che mai. L'Espede aveva ormai quasi rinunciato alle vecchie soluzioni per prendere il potere o attuare una qualche forma di rivoluzione socialista, e negli ultimi dieci anni, anche grazie all'industrializzazione sempre più omogenea sul territorio e al sempre maggior appoggio dei lavoratori salariati, il Partito Socialista aveva cominciato a puntare sempre di più sui grandi scioperi, capendo l'importanza e l'effetto che i global strikes potevano avere sulla società tedesca e soprattutto sugli affari che insistevano sui diritti sociali. La nuova ondata sindacale e l'appoggio sempre maggiore anche da parte di borghessi ed intellettuali, dopo tutto, restituirono una nuova concretezza al Partito che poté distribuirsi in cellule organizzate in tutto l'impero grazie ad una gestione politica all'avanguardia per il tempo. E questo fece sì che l'Espede tra la fine del 90 e gli anni 10 del 900 sarà la principale esperienza a cui qualsiasi socialista in Europa e non solo doveva e poteva ispirarsi e guardare. Infatti, per esempio, nel 1898, alle elezioni del 98, riuscirono a prendere ben 56 seggi e ben 81 in quelle del 1903. Guglielmo II però non cercò mai di instaurare con loro, con i socialisti, una qualsiasi forma di dialogo. Per egli non erano altro che i traditori, li considerava dei sudditi sleali di serie B. Tornando alla politica estera, forse anche dopo la questione del 1886 del Transvaal e la definitiva accettazione di un Regno Unito rivale che la Germania, insomma, decise di investire pesantemente in una flotta che potesse perlomeno competere con quella inglese o perlomeno avvicinarcisi. Il riarmo navale per una nuova politica mondiale che era stata in qualche modo messa in pausa per dieci anni da quando Bismarck negli ultimi suoi anni aveva tentato di perlomeno non dar fastidio all'Inghilterra in funzione antifrancese, fu in larga parte, quindi questa nuova politica mondiale dopo questi dieci anni di stop, fu in larga parte opera del controammiraglio Tripitz che nel 95 era appunto diventato capo della marina. Nel 1898 e anche nel 1900 due grandi leggi navali vennero approvate al Reichstag, contestate solo dai socialisti e pochi altri, e ingrandivano, potenziavano e anche da un punto di vista tecnologico miglioravano la flotta tedesca. A fine secolo la marina tedesca aveva occupato e fatto colonializzato con un lascia passare russo lo Yangtzu cinese, aveva anche comprato dalla Spagna gli arcipelaghi delle Marianne e delle Caroline e si era spartito le isole Samoa dopo la sconfitta dei Boeri con gli inglesi, quindi sì avevano avuto un grosso successo almeno inizialmente queste politiche di potenziamento navale. Alla fine del secolo poi fu anche il comportamento xenofobo di un generale tedesco in Cina, mentre stava in una delle zone occupate della Cina, ad infiammare ancora di più la rivolta dei boxer in Cina e l'esecuzione di questo tedesco che venne diciamo ucciso tra dei ribelli cinesi sarà anche il motivo ufficiale della spedizione punitiva europea contro i ribelli appunto cinesi, fortemente voluta dalla Germania, da cui tra l'altro questi queste potenze europee beneficeranno soprattutto e ancora di più con concessioni e nuovi territori e porti e concessioni sui porti e tariffe agevolate cinesi, dopo che insomma gli inglesi avevano iniziato questa sorta di politica del mi dai le lascia passare o ti bombardo a partire dalle dalle prime guerre dell'oppio del 1839 e poi anche le seconde guerre dell'oppio. Poi nel 1900 Hohenhohe passò il testimone, per fortuna almeno non lo devo più pronunciare, a Bernhard von Bülow, Bülow è un po' più facile da pronunciare di Hohenhohe, che era stato ministro degli esteri fino all'anno precedente ed era finalmente il primo vero diplomatico di professione alla cancelleria imperiale dai tempi di Bismarck. E un po' come Bismarck mise subito molto impegno alla ricerca e al consolidamento di una maggioranza che potesse consentirgli di governare. Durante i suoi primi tre anni di governo egli poté continuare gli impegni navali e militari della precedente amministrazione. L'amministrazione, diciamolo ancora insieme, uno, due, tre, Hohenhohe. La motivazione utilizzata per convincere il Parlamento era la cosiddetta teoria del rischio, appunto teorizzata da Tripitz. Ossia, se noi puntiamo su una frotta veramente grande e tecnologicamente superiore, essa sarà troppo grande per, in qualche modo, far venire qualche malsana idea al Regno Unito di dichiararci guerra. Quindi questa teoria del rischio, che è del rischio perché poi sappiamo che, insomma, anche la prima guerra mondiale è scoppiata proprio perché tutti erano corsi agli armamenti, quindi non sempre la strategia del sono troppo forte per essere attaccato perché, soprattutto, questa strategia non tiene conto delle alleanze. Per carità, tu puoi avere anche una flotta troppo grande per far paura a scoraggiare gli inglesi da soli, ma se gli inglesi non sono da soli, ecco, forse non esiste mai un esercito troppo grande. Però al tempo era una teoria dominante, perlomeno in Germania, ma anche un po' ovunque. E per avere questo appoggio per questo extra investimento militare, a Bülow bastò attuare politiche protezioniste, filo Junkers, una su tutte il blocco della costruzione di un nuovo canale sull'Elba, che stava già per essere ultimato, che avrebbe reso il grano proveniente da imbarcazioni e dal mare più economico. Questo ovviamente ai produttori di grano della terraferma non conveniva perché si erano cartellizzati per bloccare qualsiasi ingresso di grano a buon mercato o dall'oceano o dal mare e quindi bastò bloccare questo canale per avere anche i voti dei Junkers. Le elezioni del 1903 però bocciarono l'operato di Bülow dal momento che i partiti governativi persero tutti quanti dei voti. Dal 1905 poi la Germania fu vittima anche di una grave crisi finanziaria interna di conti a causa delle onerose spese navali e della sopravvalutazione delle capacità tedesche nel finanziarle. Bülow sembrava quindi già per capitolare, ma ancora gli sarebbero rimasti quattro anni di cancelleria. Infatti quasi contemporaneamente un fatto internazionale stava distogliendo l'attenzione dei politici tedeschi. Nel 1904 il Regno Unito e la Francia firmavano l'intente cordiale, l'intento cordiale credono in francese, accordandosi cordialmente sulla spartizione delle zone di interesse, quindi Marocco alla Francia ed Egitto al Regno Unito. La Germania, che era sempre più isolata anche a causa sua, cioè proprio della propria politica estera, non erano gli altri che erano cattivi, non rimase a guardare. Guglielmo II si precipitò subito a Tangeri per incontrare il tano marocchino per mandare un segnale alla Francia, per far vedere che era, insomma, contrariata e che avrebbe comunque fatto di tutto per difendere l'integrità marocchina. Forse questo segnale era anche un modo per scatenare effettivamente un conflitto preventivo e vincere velocemente. Se era Bismarck quello contrario alla guerra preventiva, beh, tutti i militari di cui si circondava Guglielmo II non lo erano. Ed effettivamente era un po' un momento ora o mai più. Nel 1905 la Russia era stata sconfitta praticamente dal Giappone e non sarebbe intervenuta. Il Regno Unito non aveva interessi in quella zona, in quel momento si erano appena spartite le zone di interesse, quindi paradossalmente era l'unico momento in cui la Francia poteva essere vulnerabile e la Francia aveva avuto un'industrializzazione più lenta e meno complessa di quella tedesca. La Germania era all'apice della sua forza militare, navare, e anche se aveva dei problemi economici interni, poteva comunque finanziare una breve guerra e poi magari far riguadagnarci qualcosa in zone ricche francesi di colonie francese cedute, oppure in debiti, anzi in questo caso crediti di guerra. Quindi anche se ammettiamo che forse in questo caso la Germania voleva scatenare una guerra, un conflitto, magari sperando che fosse la Francia ad attaccare, no? In quanto sappiamo sempre che chi attacca spesso va dalla parte del torto, soprattutto quando ci sono degli accordi internazionali che vincono altre potenze a scendere in campo in caso di aggressione o non aggressione, che tra l'altro è il motivo per cui l'Italia nel 1915 non entrerà in guerra a fianco dell'Austria e la Germania, proprio perché nessuna delle due era stata attaccata per primo. Quindi nonostante noi non sappiamo questo, se fosse o no un piano, un doppio gioco, un complotto tedesco, la tensione si sgonfiò dopo poco. I francesi non abboccarono a questa provocazione e continuarono la loro politica di assicurazioni e controassicurazioni, finché due anni più tardi, nel 1907, verrà siglata tra l'altro anche la famosa e importantissima triplice intesa con Regno Unito e Russia, isolando definitivamente la Germania di Guglielmo II. L'ultimo avvenimento che sancì anche la fine della carriera politica di Boulot fu quella dell'affare, l'affare del Daily Telegraph, dove per due volte il cancelliere ebbe in mano il manoscritto di un'intervista fatta dal Daily Telegraph a Guglielmo II e lui per ben due volte, entrambe le volte, non cancellò le spacconate dette dall'imperatore, una sorta di dispaccio di Ems al contrario. Cioè se il dispaccio di Ems di Bismarck, prima della guerra con la Francia del 70, era lui che modificava e tagliava dei pezzi, qui invece è successo l'opposto, cioè è successo un disastro proprio perché il cancelliere non ha modificato dei pezzi. Ma che cosa aveva detto di così grave Guglielmo II? Ma niente di grave, però era una delle sue. Praticamente l'imperatore dichiarò che con la sua posizione vicino all'Inghilterra era in minoranza nel suo paese e che durante la guerra Boera aveva impedito nel 99 una coalizione delle potenze continentali contro l'Inghilterra e aveva inviato alla regina Vittoria, che era sua nonna, e lui la descrive proprio come adorata nonna, un piano di battaglia che i britannici avevano ampiamente seguito. E infine anche che la flotta tedesca, che tanto innervosiva l'Inghilterra, era solo un mezzo per far sentire la voce della Germania nel mondo, e in particolare nei confronti della cattiva Cina e Giappone, nell'oceano Pacifico, e quindi che forse l'Inghilterra sarà addirittura contenta che la Germania abbia una flotta quando alzeranno la voce insieme dalla stessa parte nei grandi dibattiti del futuro. Ecco, questa è una roba che, per esempio, io potrei capire se la scrive Silvio Berlusconi nei confronti di Putin. E un po' era la stessa cosa. Quindi capite che quando poi l'opinione pubblica inglese derise l'imperatore, perché effettivamente era un deficiente, però quello che successe è che Bülow si prese la colpa un po' di tutto, il Parlamento fece di tutto per utilizzarlo come capiro espiatorio, e lui alla fine, nel 1909, fu proprio lui, fu proprio Bülow a chiedere all'ormai deriso ed impopolare il sovrano, di basta, di licenziarlo, di restituirlo. Quindi nella mia mente ci sta lui che veramente non ne può più e chiede, chiede di poter rassegnare le dimissioni a quell'incompetente dell'imperatore. Nel prossimo episodio inizia il countdown, inizia il countdown alla Prima Guerra Mondiale. Succederanno altre controverse internazionali simili a questa prima crisi marocchina del 1905, che alla fine, in qualche modo, culmineranno nell'ingresso in campo di tutti quanti i grandi attori europei, a partire appunto dall'Austria, e poi il resto è storia. E quindi, mi raccomando, siateci. L'ultimo episodio, e poi c'è quello speciale, del podcast. Quindi, Phil and Duncan all, ci sentiamo al prossimo, che quindi è l'ultimo o penultimo, a seconda dei punti di vista, podcast. Tchuss! La storia Nel 1908, alla Germania ormai isolata, non rimaneva altro che consolidare la propria alleanza con l'Austria. O perlomeno, non rimaneva altro che evitare di incrinare i propri rapporti anche con il vecchio Francesco Giuseppe, che poi sarebbe morto prima della fine della Prima Guerra Mondiale. L'occasione per mostrarsi collaborativi con l'Austria si presentò il 6 ottobre del 1908, quando l'Austria informò il governo turco di essersi annessa alla Bosnia e l'Herzegovina, che comunque amministrava fin dal 1878, ossia dalla firma da quando firmarono dei trattati in materia, durante il congresso di Berlino. Il giorno prima di questo 6 ottobre, infatti, il regno di Bulgaria otteneva l'indipendenza dall'impero ottomano, e l'Austria approfittò di questa crisi dell'impero e del disordine politico generato per procedere con questa annessione. La Russia, che avrebbe in altre occasioni e in altre circostanze dichiarato guerra all'istante, non ci avrebbe pensato due volte, all'Austria di Francesco Giuseppe, si palenzò solamente contraria come Francia e Regno Unito, senza quindi però scendere in campo o fare alcunché. La verità è che l'Austria aveva promesso alla Russia la libertà di accesso agli stretti, a tutti gli stretti turchi, specialmente all'importante stretto dei Dardanelli. La Russia trovava una mezza intesa con l'Austria in funzione anti-contro il gigante turco morente, ed è buffo come comunque questi equilibri cambiarono radicalmente poi nel 14, quando invece il turco gigante morente si schiererà con l'Austria e non con la Russia. Il regno però che più si sentì minacciato giustamente dall'espansione austriaca era il regno di Serbia, e la Serbia iniziò immediatamente a movimentare l'esercito in, chiamiamo così, posizione difensiva, formando delle bande ai confini con la Bosnia e l'Herzegovina, temendo un'invasione, un'altra annessione, così a caso, austriaca. Russia e Serbia non avevano trattati formali di difesa a mutuo soccorso, ciò nonostante, almeno fino al 1908, ecco, sarebbe stato molto improbabile che l'Austria, dopo aver ottenuto il lascia passare Russia in Bosnia e Herzegovina, avrebbe forzato questa neutralità russa cercando di annettere la Serbia, che comunque, anche senza trattati difensivi, era un'amica storica e tuttora è, diciamo, un'amica dello czar. La Germania, inizialmente, non fu proprio entusiasta dell'azione austriaca contro i turchi, per due motivi fondamentali. Il primo, c'erano dei grandi interessi in tutto il Medioevo, buongiorno, il Medio Oriente da parte della Germania, soprattutto in funzione della grande, lunghissima ferrovia di Baghdad, che stava venendo ampliata in quel momento. Quindi, diciamo, il fatto che un proprio alleato desse molto fastidio ad un grande partner commerciale del momento non era proprio il massimo. E un altro, diciamo, motivo di poco entusiasmo tedesco iniziale era che effettivamente l'impero turco ottomano era l'ultimo altro possibile alleato rimasto, che poi, infatti, sarà anche alleato di quello che rimarrà della triplice alleanza durante la Prima Guerra Mondiale. Però, in quel momento, sembrava, da parte tedesca, scemare all'orizzonte anche un possibile accordo con i turchi in funzione antirussa, dal momento che gli austriaci, ecco, avevano deciso di avere questa politica estera molto violenta. Però, comunque, alla fine la paura di infastidire l'Austria, con cui si aveva un accordo, prevalse, e non solo nel 1909 la Germania riconobbe l'annessione della Bosnia e dell'Herzegovina a favore, a pro dell'Austria. Anzi, addirittura, il capo di stato maggiore tedesco Moltke avvissò il Ministero degli Esteri russo, che ora appariva titubante se continuare a lasciar passare tutto all'Austria oppure no, c'erano stati, diciamo, dei ripensamenti interni alla Russia. Fatto sta che Moltke avvissò il Ministero, il Ministro degli Esteri russo, che non avrebbe tollerato alcuna risposta evasiva sul da farsi, sul lasciar passare all'Austria. Questo voleva dire, in poche parole, guai a voi se dite solamente A contro la mia amica Austria. E questo è l'ennesimo esempio di scarsa diplomazia militare che tanto piaceva a Guglielmo II. Comunque, dal 1909 la corsa agli armamenti europea subì una nuova impennata, a cui seguì un rafforzamento delle lize delle industrie militari e belliche e anche un rafforzamento dei vari partiti della guerra in Europa, che poi nel 1914, per far fronte a un rallentamento della globalizzazione dell'economia europea e mondiale, e faranno pressione sui governi cercando di convincere e convincere che effettivamente la guerra magari avrebbe dato un po', diciamo, una nuova nascita, una nuova rinascita all'economia di ogni paese se avesse vinto, come una sorta di reset anno zero, alle spalle ovviamente delle migliaia, si pensava, decine di migliaia, e che poi invece saranno milioni di morti che invece pagheranno questa conseguenza. Però questo è un'altra storia. La nuova cancelleria tedesca di Bentham, il successore designato da Bülow, dovette affrontare negli ultimi cinque anni, prima della Grande Guerra, che precedettero la Grande Guerra, dovette affrontare vecchi problemi interni mai risolti dai tempi di Bismarck e nuove crisi internazionali. A Reichstag egli non riuscì a far approvare né leggi conservatrici, come il proseguimento della lotta etnica contro la minoranza polacca in Prussia, appunto queste leggi osteggiate dai liberali, e né riuscì a far approvare riforme del funzionamento democratico parlamentare, osteggiato quindi dai Junkers, dalla nobiltà conservatrice. L'unica conquista che riuscì a realizzare fu l'ottenimento di una Costituzione per la Stazia Lorena, territorio ancora fortemente inviso al potere centrale. Ma ancor più problematica fu la situazione parlamentare dopo il 1912, quindi al terzo anno della cancelleria di Bentham, quando l'SPD divenne per la prima volta il primo partito tedesco con oltre un terzo dei voti totali, a cui però corrisposero solamente 110 seggi su 397 a causa della legge elettorale, quindi un quarto dei seggi totali. In ogni caso, i conservatori e il Centrum, lo Centrum Cattolico, non raggiungevano una maggioranza, mentre a sinistra, per questioni di classe e di ideologiche profonde, anche se poi molte proposte concrete erano simili, sarebbe stato impossibile un governo liberal-socialista, anche se i numeri c'erano e come. Gli anni del cartel governativo erano finiti da tempo. Il cartel su cui poteva fare affidamento Bismarck non esisteva più e, come abbiamo detto più volte, i limiti del modello mai completamente democratico, mai completamente parlamentare e solo costituzionale, stavano mostrando anno dopo anno i propri limiti. E soprattutto la scelta, così, del cancelliere, in modo assolutamente arbitrario da parte del sovrano, che era completamente distaccato, poi, dall'equilibrio parlamentare, ecco qua, che mostrava tutti i propri limiti, tutti i limiti del caso. All'estero, invece, una seconda crisi in Marocco rischiava di scatenare una guerra, l'ennesima tentata con la Francia. A seguito di altri disordini nel sultanato nordafricano, la Francia, infatti, aveva approfittato della situazione per occupare Rabat e Fetz. E la minacciata Germania entrava, con una gigantesca nave da guerra, ad Agadir, al porto di Agadir, per sottolineare le proprie richieste, ossia disimpegno tedesco in Marocco in cambio di alcune parti di Congo francese. Anche in questo caso, i pan-germanisti, i nazionalisti, i reazionari, i conservatori, e quindi tutto il cosiddetto partito della guerra, che era sempre più grosso, spinsero per la guerra, appunto, ormai considerata inevitabile. Ma Bentman, che ho pronunciato prima, mi sembra un paio di volte, Bentham, come Jeremy Bentham, il filosofo, però no, si chiama Bentman, e Guglielmo II erano ben consci che a questo punto il Regno Unito sarebbe corso in aiuto della Francia. Il lento declino economico inglese, contrapposto all'apice economico tedesco, aveva senz'altro contribuito ad un ravvicinamento con la Francia, ricordiamo appunto i loro trattati, nel 1904, e soprattutto alla fine la triplice intesa anche con la Russia, nel 1907. La delusione che dentro l'impero, l'impero tedesco, si respirava dopo che Bentman aveva ceduto sul Marocco, senza ottenere niente di congolese o niente di concreto in cambio, andava a minare il consenso generale verso il cancelliere. Tutta l'opinione pubblica tedesca ormai era convinta che per la Germania fosse arrivata l'ora di farsi riconoscere dal mondo e soprattutto dal Regno Unito come grande potenza. E nel 1912, quando a Reichstag fu varata un'altra legge economicamente onerosa sull'aumento delle spese militari, ricorrendo per la prima volta anche alla tassazione sulla proprietà terriera, perfino l'Espede votò a favore di questa legge bellica. Anche la classe operaia ora, in questi anni, era imbevuta di nazionalismo bellico e quindi l'Espede si ritrovò in questa paradossale situazione in cui, nonostante fossero pacifisti, dovettero, per rappresentare effettivamente il proprio elettorato, votare per questa legge. Anche perché comunque c'era questa sorta di specchietto per le allodule che, siccome la tassazione sulla proprietà terriera era una cosa buona, anche se veniva utilizzata per finanziare l'esercito, era comunque una tassa sui possidenti e quindi ebbero più facilità a votare questo provvedimento e a motivare anche questo investimento bellico furono la prima e poi la seconda l'anno dopo guerra balcanica. Nel 1912 l'Albania si sollevò contro l'occupazione turca con l'appoggio di altri stati balcanici e la Germania riuscì ancora una volta a frenare l'Austria che si vedeva minacciata ora da questa alleanza filorussa. L'anno successivo, invece, nel 13, le stesse nazioni balcaniche entrarono in conflitto fra di loro, cioè soprattutto Bulgaria contro tutte le altre. E sempre l'Austria fu ad un passo dall'intervenire dopo che Serbia e Grecia, soprattutto, stavano mangiandosi pezzi di Balcani dopo la sconfitta della Bulgaria, come per esempio il Kosovo e la Macedonia spartita, invece, con la Grecia. Quindi la grande guerra sarebbe potuta essere... cioè, sarebbe potuta scoppiare, quindi, sia nel 1912 che nel 13, paradossalmente, ma è solo nel 1914 che anche la Germania decise di non frenare la sorella austriaca. Insomma, la storia di Sarajevo la conosciamo tutti. Gavrilo Princip, affiliato alla Manonera, che sì, tecnicamente, è un'organizzazione terroristica serba, panserba, panslava, però lui era comunque un nazionalista bosniaco. Vabbè, poco ci interessa, perché alla fine è il Cassus Belli. Ha ucciso il pretendente al trono austriaco. E l'Austria, per la terza volta, come nelle più stereotipiche barzellette, che è sempre alla terza volta che succede qualcosa, dopo aver mandato un ultimatum alla Serbia, che per loro era, insomma, direttamente responsabile di questo omicidio, decise di far crollare il castello di carte in piedi fin dal 1814, fin dall'inizio di questo podcast, e attaccare una Serbia protetta da una Russia che fa scendere in campo la Germania, che quindi poi fa scendere in campo di conseguenza la Francia e il Regno Unito, e che poi la Germania, alleata dell'impero turco-ottomano, riesce a portarsi con sé. Il risultato, vabbè, lo sappiamo, nel mio podcast non si spinge a parlare di Prima Guerra Mondiale, però i tre grandi imperi multinazionali, per modo di dire, però antichi, cadono tutti, ma cade anche un impero abbastanza moderno che è quello tedesco, appunto cade la Russia, cade il turco-ottomano, cade l'austro-ungarico, l'impero tedesco che poteva sperare di avere un'evoluzione interna e magari andare a somigliare a una Francia, a un Regno Unito, crolla. Al suo posto, etero direttamente, verrà instaurata una soffertissima repubblica che poi darà le basi per il terzo impero, il terzo Reich. Tutti erano convinti che questa magari sarebbe potuta divenire una guerra lampo, il piano schliffen tedesco sembrava funzionare finché la Germania non si impantanò in Francia, sul fronte occidentale e anche sul fronte orientale, non successe niente di così dissimile. I partiti della guerra avevano vinto, sì, avevano avuto ragione, ma avevano perso. Che cosa? La loro scommessa. Il riarmo e le nuove tecnologie belli che avevano avuto un po' l'effetto opposto a quello sperato. Non si era più troppo armati fino ai denti per poter in qualche modo sperare di sfuggire a un grande conflitto sperare appunto di far da deterrente. Anzi, semmai il contrario, più il bilancio era improntato dai singoli stati verso la spesa bellica, più si andava a favorire quella parte influente di tutti quanti gli stati che alla fine si era convinta che un grande reset sarebbe stato, avrebbe giovato tutti quanti come una sorta di nuova pagina, un nuovo congresso di Vienna. Da lì siamo partiti e qui finiamo. soltanto che le conseguenze della Prima Guerra Mondiale in termini di vita, in termini di cambio culturale, non sono minimamente paragonabili a quelle delle guerre napoleoniche. La vita e le condizioni pietose e igieniche nelle trincee che a cui poi si sommerà anche l'incredibile epidemia pandemia di febbre spagnola cambiarono il mondo per sempre e non contenti gli europei fecero in modo di creare l'humus politico-economico-culturale per lo scoppio della seconda parte di questa che può essere definita una nuova, la seconda guerra dei trent'anni divisa nel primo conflitto mondiale, un periodo di pausa e poi la seconda guerra mondiale. E quindi il nostro podcast, il mio podcast e il nostro viaggio che spero vi sia piaciuto che abbiamo fatto insieme finisce qui però mi raccomando domani c'è l'ultimo episodio l'episodio speciale diciamo un po' bibliografico un pochino un making of del podcast giustamente voi vi starete chiedendo ma perché io devo credere a questo che parla? Chi mi dà la garanzia che abbia lavorato decentemente che quello che sto sentendo è un qualcosa che ne vale la pena da ricordare? Ecco, voi seguitemi anche domani nell'episodio, l'ultimo episodio speciale e avrete le risposte e quindi vielen dank an alle danke, danke schön e ci sentiamo al prossimo e ultimo podcast finalmente. Tchuss! Ciao a tutti finalmente siamo arrivati alla fine di questo lunghissimo percorso assieme spero che il podcast il progetto vi sia piaciuto e questo è il tanto anticipato già dall'inizio episodio speciale dove insomma voglio raccontare un attimo chi sono cosa faccio come ho lavorato e soprattutto citarvi un po' di fonti e ve le metto anche in descrizione tante le volte voi foste interessati ad approfondire questi cento anni che ho narrato e non solo e magari volete qualche consiglio qualche fonte anche perché come dicevo nella presentazione del podcast giustamente se io fossi un fruitore di questo podcast a un certo punto mi aspetterei di sapere come colui che ha curato il podcast ha lavorato perché dovrei fidarmi che cosa ha letto che conoscenze ha che competenze ha per poter affermare con la sua sicumera con la sua convinzione tutto ciò che dice bene allora incominciamo dal principio io sono un laureando in chi mi conosce già lo sa però per chi non mi conosce laureando magistrale in scienze storiche dopo aver invece avuto una laurea triennale in scienze politiche a Perugia laureandomi però con una tesi in dirizzo storico che quindi poi in qualche modo già si poteva potevo presagire ai tempi che avrei un attimino cambiato indirizzo scienze storiche alla fine in realtà più storia contemporanea in quanto a Padova il curriculum è personalizzabile i miei esami sono stati e sono tuttora praticamente quasi esclusivamente di storia contemporanea e chi chi di voi già mi seguiva con il precedente podcast sa che fino a un anno e mezzo fa ho lavorato per un paio d'anni totali ad un altro progetto che si chiamava Blathero più generalista più semplice sicuramente non monografico dove mi sono fatto un attimino le ossa e ho preso un po' la mano ok al microfono e no non sono un rapper però ci siamo capiti insomma ho fatto un po' di gavetta ho imparato ecco qualcosina sul mondo del podcasting allora togliendo questi due minuti abbastanza inutili arriviamo al dunque come ho lavorato come mai ho scelto questo argomento e che competenze hai per poterne parlare allora inizio dicendo che come dicevo nella presentazione la storia della Germania mi interessa mi interessa abbastanza tantino dal momento che la mia tesi terrenale riguardava praticamente questa roba qua una parte insomma però ecco sempre di Germania si parlava e sempre di 1800 si parlava come ho lavorato beh allora ho utilizzato come roadmap come testi di riferimento principali quindi diciamo il mio tronco dell'albero del podcast due storie integrali della Germania integrali insomma moderna e contemporanea della Germania rispettivamente la storia della Germania di Gordon Craig e la grande storia della Germania di H.A. Winkler ora questi due testi sono molto diversi il testo di Craig che in Italia è uscito è stato tradotto negli anni 80 e credo che lo stesso Craig l'abbia scritto pochi anni prima edito da editori riuniti non so credo sia stato anche ristampato è un pochino meno annualistico non so come dire è lievemente più tematico è anche un pochino più disordinato perché per come ho improntato io impostato il podcast è stato un po' difficile fare avanti e indietro avanti e indietro nel libro dal momento che venivano divisi dei capitoli magari un grande capitolo sulla politica estera che durava trent'anni poi il capitolo successivo si tornava indietro per parlare di questioni interne era molto diviso fra estero interno estero interno e non prosegue troppo cronologicamente devo dire mentre il il grande librone di Winkler sì e diciamo è più facile da utilizzare come riferimento in più sono tutti e due doppi libri quello di Craig però inizia da dopo la fine della guerra austro-prussiana e arriva bla 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 nel novecento secondo volume del novecento ovviamente non l'ho utilizzato mentre il libro di Winkler l'opera di Winkler parte da prima parte appunto dal congresso di Vienna o addirittura prima se non ricordo male e poi va avanti nel novecento anche quello diviso in due libri sono più grandi mi è servito solamente il primo e poi c'è stato anche un terzo libro generale la storia della Germania moderna di Golo Mann che però l'ho utilizzato molto molto poco di spalla questi due libroni principali per due motivi uno perché è il terzo che ho ottenuto e il secondo motivo è perché è stato scritto negli anni cinquanta quindi un po' più datato e anche la forma è abbastanza pesante quella perlomeno tradotta in italiano in tedesco non mi sono azzardato a leggerlo questo è ovviamente per appunto il tronco principale del podcast poi ovviamente è stato farcito di tantissime altre letture personali alcuni paper alcuni video altri progetti di divulgazione cui ho dato un occhio più che per ispirarmi per vedere cosa era già stato detto e cosa non era stato detto per evitare di fare dei doppioni e per fare un lavoro originale e anche per giudicare negativamente come gli altri miei colleghi ovviamente più celebri magari hanno trattato a mio avviso male alcuni argomenti l'ho già anticipato per quanto riguardava il dispaccio di Ems non mi è piaciuto come la maggior parte dei youtuber youtubers divulgatori di storia hanno trattato la faccenda in ogni caso ecco mi sono serviti molto per fare un po' di digressioni sul tema del di approfondimento sui nazionalisti e sulle questioni alla fine hanno parlato poco questioni razziali più che altro sui nazionalisti e sul rifiuto del di alcuni nazionalisti il rifiuto della forma dell'impero tedesco dopo il 71 mi sono servito di fatto della mia tesi triennale che trattava di questi argomenti e quindi di soprattutto tre grandi opere di George o Georg Mosse seconda se volete usare la pronuncia americana di quando si trasferì in america perché era ebreo George oppure Georg se vogliamo usare il nome originale di quando stava in germania prima delle percheosecuzioni e i tre libri in questione sono la nazionalizzazione delle masse l'opera più famosa le origini culturali del terzo reich e il razzismo in europa poi poi per quanto riguarda l'episodio quello sul 48 49 l'approfondimento culturale insomma mi sono servito esclusivamente di due paper uno festivals of national unity in the german revolution of 48 49 di Jonathan Schperper e poi did women have a revolution di Gabriella Auch che mi sono serviti appunto per raccontare la questione delle feste e non so se vi ricordate il fatto che c'era sempre un individuo di nazionalisti che veniva escluso dalle feste nazionali organizzate dall'alto e poi invece l'altro paper sulla questione dei diritti delle donne e delle proto-associazioni femministe e della differenza tra le nomi il donne del settecento e quelle dell'ottocento e di come cambia la femminilità nei ceti alti nei alti livelli dell'elite tedesche in generale europee poi vabbè mi sono serviti mi sono servito di di altre letture che non ho segnato non ricordo dal momento che insomma al podcast ci lavoravo a volte anche in alcuni ritagli di tempo quindi magari mi spulciavo alcuni articoli alcune cose alcuni link di wikipedia inglese che continuo ad essere io un grande sostenitore di wikipedia inglese perché tutto quello che leggi è molto più controllato di wikipedia.it e ci sono le note tu vedi le note ci clicchi e vai a vedere e vedi dove quell'informazione è stata presa ogni tanto ecco mi mi perdo un pochino in questi in questi labirinti in questi tunnel di click di note wikipedia eccetera alla fine riesco a scrivere informazioni ma poi non mi ricordo più tutti i giri che ho fatto ovviamente se questa fosse stata una tessi di laurea avrei tenuto conto di tutto però non è una tessi di laurea quindi molte cose mi sono dimenticato e quindi quella che sto facendo è una bibliografia parziale insomma dei testi principali che ho utilizzato watershed of two eras un libro di john romain invece mi è servito soprattutto per le parti terminali sulla germania del novecento e i rapporti in generale fra tutte le potenze europee molto interessante il libro è assolutamente non cronologico parla di tanti avvenimenti tutti diversi accaduti nel novecento tra l'ottocento e il novecento quindi proprio al passaggio di secolo ed è abbastanza introvabile infatti io lo studiaio su tempo per un esame in biblioteca anzi in realtà fotocopiato però sta in biblioteca a Padova e probabilmente anche in altre biblioteche e anche il paper il saggio di di Murman Patents and Technological Competencies mi è servito per la storia dell'industria chimico-farmaceutica in Germania ne ho parlato non mi ricordo in quale episodio insomma uno dedicato uno degli anni ottanta o novanta dell'ottocento e in generale tutti quanti gli appunti che presi a suo tempo per l'esame di storia economica mi sono serviti per poter arricchire il mio podcast di alcune informazioni legate all'industria tedesca al successo dell'industria tedesca negli ultimi decenni dell'ottocento e poi anche in realtà il fallimento nei decenni successivi ecco quegli appunti mi sono stati molto utili per esempio ne ho fatto un riferimento quando parlavo di Chandler anche lì nello stesso episodio in cui parlo dell'industria chimico-farmaceutica quando faccio appunto l'esempio del modello di cartelli fortemente cartellizzato dell'industria pesante tedesca basta credo sì questi sono posso dire i documenti che mi sono serviti di più per il resto c'è tanta tanta farina del mio sacco nel senso c'è tanta conoscenza pregressa ma non perché sono figo perché studio queste cose e sarebbe un problema se non avessi conoscenza pregressa di manuali diciamo generali che ho usato un attimo per introdurre soprattutto il primo episodio beh ho usato il Banti ho usato il Banti e basta e niente spero che questo noiosissimo episodio che però magari serve a qualcuno per giustamente fidarsi un pochino più delle mie parole eccolo spero lo trovi utile comodo intellettualmente onesto e io metterò più link possibili sotto questo podcast per recuperare il materiale che ho consultato prevalentemente basta detto questo io spero che tutto il progetto vi sia piaciuto come ho detto all'inizio e chi lo sa la prossima monografia magari uscirà fra un qualche mese due mesi tre mesi quattro mesi in realtà ho già incominciato a lavorarci però molto molto lentamente non voglio strafare voglio tenermi non voglio pubblicare più di due massimo tre monografie ogni anno e quindi la prossima diciamo che prima di febbraio non si vede l'uscita però tra febbraio e marzo chi lo sa magari sarà pronta sicuramente non sarà da 18 episodi questo ve lo assicuro però una decina poco più forse sì dai e quindi grazie per aver ascoltato tutto fin qui e non vi posso dire più ci vediamo al prossimo podcast dankeschön annal eccetera eccetera però vi posso dire auf Wiedersehen e e a presto tschüss a presto